Qui arriva tutta la sporcizia da Padova, diciamo da nord Padova e tutti i comuni attraversati dall'asta del canale Battaglia e da sud, da Monselice, est e dal canale Bisato, quindi tutta la zona ovest dei Colli Eugane. Le polemiche scoppiate per il battello turistico rimasto incagliato tra i rifiuti galleggianti all'arco di mezzo di Battaglia Terme non devono sorprendere. Lo stato vergognoso e incredibile nel quale versa il canale a Battaglia Terme era già stato denunciato ai nostri microfoni dal sindaco Massimo Momolo esattamente un anno fa. Una situazione inaccettabile di suo, ancora di più in un territorio a vocazione turistica, dalle terme a luoghi molto visitati come il Castello del Cataio e le ville disseminate nei comuni confinanti fino ad Arqua Petrarca. E da Montegrotto arriva la prima mano tesa per risolvere questa situazione. Affrontare questa tematica che è annosa e ben conosciuta serve una solidarietà tra sindaci perché non ci si trovi alla fine, non si trovi semplicemente il comune di Battaglia ad affrontare un problema che è molto più grande di quello che può affrontare un piccolo comune. Per quello che riguarda il suo comune lei prenderà quindi i provvedimenti? Assolutamente sì, è già in programma un incontro, una riunione con il sindaco di Battaglia per capire in che forma e in che quantità il comune di Montegrotto può contribuire. Montegrotto intende farsi portavoce del problema all'organizzazione di gestione della destinazione Terme con gli Uganei. Assieme a Battaglia ci faremo voce perché ogni comune possa fare la propria parte e perché anche le categorie imprenditoriali possano contribuire per risolvere un problema che a mio modo di vedere deve essere considerato anche dagli organi sovraordinati.